alla ricerca della tua prossima auto presso tomasi auto il passaggio di proprietà è gratuito su una selezione speciale di sericoa suve berline risparmia fino a 600 euro su una selezione speciale questa incredibile promozione è disponibile solo per un periodo limitato visita il nostro nuovo showroom a roma trova il tuo prossimo veicolo da tomasi auto stile comfort e risparmio ti aspettano